Ciao a tutti, oggi parliamo dei crepuscolari. Prima di tutto focalizziamo la nostra attenzione sulle parole chiave che ci aiuteranno poi a comprendere la poetica degli autori. 1. Rinuncia alla poesia magniloquente ed elevata, tipica di Carduccio e di D'Annunzio. 2. Scelta di una poesia semplice, di una poesia fatta di piccole cose, di una poesia che si concentra sulle situazioni quotidiane e che critica la borghesia ipocrita e conformista. 3. Toni malinconici e talvolta autoironici. 4. Uno stile basso e prosastico, con un lessico semplice e forme di messe. Chi sono i crepuscolari? Il termine crepuscolari indica un gruppo non unitario di poeti nati intorno agli anni 80 dell'800 e attivi nel primo quindicennio del 1900. Il nome crepuscolari è stato attribuito a questi poeti da un critico letterario Giuseppe Antonio Borgese. Nel 1910 Borgese ha definito questi crepuscolari in un articolo pubblicato sulla stampa. Di loro Borgese scrive che sono giunti a levare delle mense, devono contentarsi delle briciole. Che c'è da far dopo le odi barbare di Carducci, dopo quella dozzina di liriche dannunziane nelle quali la nostra lingua mostrò veramente tutto il suo potere, dovranno passare molti anni prima che quell'eco si spenga o dovrà sorgere un altro temperamento di quella forza. Questi poeti sono poeti che non hanno la forza di Dannunzio e di Carducci, non riescono a lavorare sulla parola e ad elevare questa parola. Non c'è in questi poeti il culto della parola. Sono i poeti che cantano con una voce crepuscolare, con quella voce che è la voce di una gloriosa poesia che si spegne. Vediamo quindi un tramonto, un crepuscolo della grande poesia e questo crepuscolo è rappresentato da questi poeti, da questi autori che si distanziano da Dannunzio e da Carducci soprattutto per l'uso della parola. Questi poeti che dicono addio alla poesia magniloquente, alla poesia importante, alla poesia elevata. Questi poeti sono quindi dei poeti di poco conto, dei poeti che non sono degni di essere chiamati tali. Con il tempo la critica ha riscoperto la poesia crepuscolare andando oltre la definizione negativa che Borgese ci ha appena dato. A questo punto la critica concorde nell'attribuire a questi crepuscolari una certa importanza, una certa dignità poetica. I poeti crepuscolari più conosciuti sono Moretti, Gozzano, Corazzini, Martini. Dobbiamo però dire una cosa che a differenza dei futuristi che pure operano nello stesso periodo, i crepuscolari non costituiscono in maniera spontanea una vera e propria scuola, non agiscono cioè secondo delle idee comuni né tantomeno creano un manifesto come quello dei letterati futuristi. Hanno però in comune dei rapporti di amicizia e hanno in comune una poetica che, seppur con le dovute differenze, ha un filo conduttore comune. Qual è questo filo conduttore comune? Tutti i crepuscolari si distanziano tanto da Carducci e D'Annunzio quanto dai futuristi. del futurismo, i crepuscolari non possono accettare quella che è l'esaltazione vitalistica dell'esistenza e anche l'esaltazione ovviamente violenta di ogni cosa. Allo stesso tempo però questi crepuscolari si distanziano anche dalla poetica più decadente in senso lato, dalla poetica dei simbolisti francesi, perché i poeti crepuscolari non sono coloro che si ritengono veggenti, non si ritengono capaci quindi di riportare in auge, di riportare alla luce quelli che sono i segreti, quelle che sono le vere e proprie essenze dell'esistenza. I poeti crepuscolari per lo più sono coloro che cominciano ad avere una sorta di presa di coscienza di quella che è la fragilità dell'uomo, di quella società che è ormai priva di ideali, di una classe borghese che è assolutamente ipocrita e conformista, di una società borghese che non può apprezzare l'arte e che ormai è diventata una merce priva di valore. Il poeta quindi quale ruolo deve assumere all'interno della società? Sicuramente un ruolo marginale. Il poeta è sostanzialmente condannato ad una solitudine esistenziale e ha perso il suo ruolo, tanto di guida quanto di veggente, come dicevamo. Il poeta, come scrive Corazzini, è un povero poeta sentimentale, è un fanciullo che piange e che desidera di morire. Se il poeta è un fanciullo non lo è alla maniera pascoliana, questo fanciullo non è in grado di dare il nome alle cose come il primo Adamo, ma è un fanciullo che in un certo senso implode un po' su se stesso, è un fanciullo che esprime un disagio esistenziale, un disagio esistenziale che però è ancora lontano dalla profondità filosofica del vero e proprio male di vivere che sarà sviluppato da Montale. Il poeta quindi è colui che non riesce più a creare nuovi miti, è un poeta che è capace di raccontare solo quelle piccole cose, quelle povere piccole cose, se vogliamo di poco conto, che Corazzini poi va a sintetizzare anche con delle emozioni, delle emozioni che sono emozioni comuni, quindi la tristezza o la gioia semplice, che se trasportate in poesia sostanzialmente, essendo sentimenti comuni, portano al poeta stesso un sentimento di vergogna. Non ci troviamo più quindi di fronte alla grande poesia e al poeta che riesce ad essere o veggente o vate o che comunque ha un genio poetico capace di sviluppare cose, emozioni che vanno al di là del sentire comune. La poesia dei crepuscolari è una poesia semplice, è una poesia, per dirla con le parole di Gozzano, delle buone cose di pessimo gusto. È una poesia che si traduce in immagini che hanno a che fare con un quotidiano, alle volte anche non poetico. Per esempio nei crepuscolari è presente la soffitta, la soffitta che è quel luogo dove si buttano vecchie cose che stanno lì a prendere polvere e sembrano perdere il loro antico valore. Oppure ancora nella poesia dei crepuscolari vediamo le corsie degli ospedali, vediamo gli animali imbalzamati, vediamo delle ville o dei giardini abbandonati, vediamo delle cameriere, delle monache che si muovono, vediamo come per esempio accade in Gozzano e Moretti una società che è una società borghese provinciale. Attenzione, l'essere contro la borghesia, contro l'ipocrisia, il conformismo e magari il tentare di idealizzare quello che è un passato e quella che è l'infanzia non comporta un'adesione alle tendenze d'annunziane che vanno a criticare la massa. D'annunzio criticava la massa e la borghesia ma aveva un altro ideale, un ideale del fatto di persone aristocratiche che rappresentavano la società ideale, la società ben fatta, quella che andava ad incarnare ancora i vecchi valori. Qui i valori sembrano quasi persi, vediamo questi borghesi che si affannano nel tentativo di diventare qualcuno, di essere qualcuno che pensano di essere portatori di valori ma in realtà questi valori non ci sono più. Ricordate poi che le piccole cose di cui ci parlano questi poeti non hanno nulla a che fare con la poetica delle piccole cose di Pascoli, cioè con quella poetica che ci faceva riscoprire altro, che ci faceva riscoprire quelli che potevano essere vari valori, quella poetica che dava nome alle cose attraverso la voce del fanciullino. Quindi c'è l'infanzia sì, ma non è l'infanzia pascoliana. Abbiamo detto quindi che in sostanza questi poeti vanno a raccontare, se vogliamo, il lato un po' più banale dell'esistenza, quello quotidiano. Eppure, nonostante tentino di distanziarsi dall'Annunzio, da Pascoli, da Carducci, almeno per certi versi questi poeti sono debitori nei riguardi di questi autori. Perché? Perché per esempio noi dobbiamo ricordare che D'Annunzio non è solo il D'Annunzio che inserisce all'interno della sua poesia il superuomo, il panismo e via dicendo. Dobbiamo ricordare anche che D'Annunzio ha attraversato una fase, la fase della bontà, che è quella che in poesia si traduce con il poema paradisiaco. Ecco, per certi versi la stagione d'Annunziana della bontà e del poema paradisiaco sembra influenzare questi autori, questi crepuscolari. Allo stesso tempo troviamo anche Pascoli, perché da Pascoli vengono riprese le forme del verso libero, ma da Pascoli poi la forma del verso libero verrà ripresa anche da Saba. Il verso libero di Pascoli tende a far sì che questi poeti adottino uno stile piuttosto prosastico e quasi colloquiale. Ricordatevi che dal punto di vista stilistico questa tendenza si traduce nella raccolta poetica di Gozzano e che sono chiamata proprio i colloqui. Che cosa fanno quindi questi crepuscolari? Questi crepuscolari vanno a tradurre in poesia quella che è la crisi di un'intera società, di una società che è cambiata, è mutata e che si sta ripiegando per certi versi malinconicamente su se stessa. Per completare l'argomento vi lascio nella descrizione i commenti a due poesie dei crepuscolari.